attenzione informiamo che l'ascensore ai binari 2 e 3 e fuori servizio il treno regionale 17 5 2 1 i treni italia titer proveniente da san pietro in casale e diretto a bologna centrale delle ore 17 e 56 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 17 9 6 4 i treni italia titer proveniente da bologna centrale e diretto a rovigo delle ore 17 e 42 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni eccetto canale il treno regionale il treno regionale 17 6 2 7 i treni italia titer proveniente da ferrara e diretto a rimini delle ore 16 e 56 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni eccetto forlì popoli gambettola sabignano sulla vicone rimini fiera il treno regionale 17 5 0 8 i treni italia proveniente da ferrara e diretto a bologna centrale proveniente da bologna centrale e diretto a san pietro in casale delle ore 17 e 02 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 17 9 6 3 di treni italia titer proveniente da ferrara e diretto a bologna centrale delle ore 16 09 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 17 4 9 6 di treni italia titer proveniente da ferrara e diretto a bologna centrale delle ore 15 16 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 17 4 9 6 di treni italia titer proveniente da imola e diretto a ferrara delle ore 14 50 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma san giorgio di piano san pietro in casale galliera poggio renato il treno regionale 17 5 0 7 di treni italia titer proveniente da san pietro in casale e diretto a imola delle ore 14 57 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 17 5 0 7 di treni italia titer proveniente da san pietro in casale e diretto a imola delle ore 14 57 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 17 4 7 8 di treni italia titer proveniente da imola e diretto a san pietro in casale delle ore 14 00 2 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 17 9 8 di treni italia titer proveniente da imola e diretto a san pietro in casale delle ore 14 00 2 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 17 9 6 1 di treni italia titer proveniente da pevara e diretto a bologna centrale delle ore 14 e 17 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 17 9 6 1 di treni italia titer proveniente da pevara e diretto a bologna centrale delle ore 14 e 17 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a san giorgio di piano san pietro in casale galliera poggiore nato il treno regionale 17 9 5 8 di treni italia titer proveniente da bologna centrale e diretto a ferrara delle ore 13 e 44 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 17 9 5 9 di treni italia titer proveniente da pevara e diretto a bologna centrale delle ore 13 e 17 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 17 9 4 8 di treni italia titer proveniente da bologna centrale e diretto a ferrara delle ore 10 e 43 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 17 5 3 7 di treni italia titer proveniente da ferrara e diretto a bologna delle ore 9 e 57 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 17 5 3 7 di treni italia titer proveniente da ferrara e diretto a emola delle ore 9 e 57 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni il treno regionale 17 4 8 4 di treni italia titer proveniente da emola e diretto a ferrara delle ore 9 e 59 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni ferma in tutte le stazioni il treno regionale 17 4 8 4 di treni italia titer proveniente da emola e diretto a ferrara delle ore 9 e 59 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 17 4 8 2 di treni italia titer proveniente da emola e diretto a ferrara delle ore 9 e 05 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla la linea gialla ferma san giorgio di piano san pietro in casale il treno regionale 17 4 8 2 di treni italia titer proveniente da emola e diretto a ferrara delle ore 9 e 05 è in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla perf draga il treno regionale 17 5 e 05 è in arrivo al binario 31 5 e 20 Grazie a tutti.